la cosiddetta fase 2 rappresenta un momento di passaggio fra la prima fase che è stata quella dell'ondata pandemica e quella che speriamo arrivi presto la cosiddetta fase 3 cioè la fase del controllo dell'epidemia la fase in cui probabilmente avremo anche un vaccino che ci permetterà di affrontare l'incontro con questo virus così come facciamo con tutti gli altri virus respiratori stagionali in questa fase 2 dobbiamo essere molto cauti perché la fase 2 significa sostanzialmente prevenire un'altra ondata pandemica e per prevenire un'altra ondata pandemica abbiamo bisogno del supporto di tutti il supporto dei cittadini che devono continuare ad essere cauti a mantenere il distanziamento sociale per quanto sia possibile e ovviamente noi faremo la nostra parte la sanità farà la sua parte con una messa in sicurezza sempre maggiore delle strutture sanitarie e una sorveglianza minuziosa di quello che succede sul territorio iscriviti al canale